Non c'è via per la pace, la pace è la via. Il tema non poteva essere più attuale e mentre vediamo gli affanni per celare gli interessi di parte e i genocidi che sempre vengono compiuti in questo pianeta, pianeta ignorante, ci poniamo la domanda sbagliata, come si raggiunge la pace? La pace non si raggiunge, c'è già di suo, ma non bisogna fare finta che non sia importante fare di tutto per mantenerla, perché il sistema umano da sempre si illude che le azioni non causino squilibri. Beh, in fondo l'ignoranza della nostra natura divina, il senso dell'ego, l'attrazione e la repulsione, oltre che l'attaccamento alla vita, sono i grandi motori delle azioni umane e lo smarrimento in Maya, la condizione di partenza. Il termine sanscrito samsara, dal Devanagari scorrere insieme, indica nelle religioni dell'India, quali il bramanesimo, il buddismo, il jainismo e l'induismo, la dottrina inerente al ciclo di vita, morte e rinascita. È talora raffigurato come una ruota. In senso lato, in un significato tardo, viene ad indicare anche l'oceano dell'esistenza, la vita terrena, il mondo materiale che è permeato di dolore e di sofferenza, la guerra appunto. Ed è soprattutto insustanziale. Infatti il mondo, quale lo si vede e nel quale si vive, altro non è che miraggio, illusione, Maya. Immerso in questa illusione, l'uomo è afflitto da una sorta di ignoranza metafisica, avidia, ossia da una visione inadeguata della vita terrena e di quella ultraterrena. Tale ignoranza conduce l'uomo ad agire, trattenendolo così nel samsara. Quest'azione risulta dall'affannata ricerca della via per la pace. Smettere di cercare e essere in pace è la soluzione. È presto detto, ma è difficile da farsi. Come fare e come non fare? Andiamo magari a esplorare il concetto di Bodhisattva. Nel buddismo un Bodhisattva è una persona che, pur avendo ormai raggiunto l'illuminazione, avendo quindi esaurito il ciclo delle sue esistenze terrene, sceglie tuttavia di rinunciare provvisoriamente al nirvana e di continuare a reincarnarsi sotto la spinta della compassione per dedicarsi ad aiutare gli altri a raggiungerlo. Quindi il Bodhisattva rinuncia a raggiungere lo stato di Buddha. Lo stato di Buddha è quindi l'obiettivo da conseguire per i maianisti, ma anche per i teosofi, perché i teosofi sono comunque una via maiana. Il percorso per raggiungere tale stato si avvia con la scelta di divenire un Bodhisattva, adoperandosi per la liberazione di tutti gli esseri senzienti. Siccome la dottrina della vacuità insegna che non c'è alcun fenomeno separato dall'altro, allora non vi può essere una liberazione individuale. Tutti realizzeranno la Bodhi, la liberazione. L'inconciliabilità tra l'illuminazione realizzata da un Buddha e la sofferenza di un essere senziente e quindi la necessità di intervento di Buddha e Bodhisattva nel mondo viene nelle scuole risolta secondo la dialettica Madhyamaka. La verità assoluta, Paramarta Satya o Sunyata Satya, richiama costantemente la vacuità, la Sunyata e in questo senso non c'è alcuna differenza tra gli esseri senzienti e i Buddha, anzi non ci sono esseri senzienti. Sul piano della verità convenzionale o relativa, tale differenze però esistono. La sintesi di queste due verità o verità della via di mezzo rende conto di ambe due e delle loro e della loro inconciliabilità. Il buddismo è un sistema mentale a volte un po' astruso e astratto perché ti dice una cosa poi te ne dice un'altra. Probabilmente a un certo punto dell'evoluzione i giapponesi si sono resi conto che il sistema buddista era molto mentale e quindi hanno riazzerato tutta la dottrina e l'hanno trasformata nello Zen. Lo Zen è essenzialmente sedersi davanti alla parete, fare Zazen, sedersi e meditare. Se però uno va in un monastero buddista della scuola del Talailama o della scuola del Karmapa c'è tutta una serie di insegnamenti mentali, visualizzazioni, pratiche, rituali, canti. Sono necessari come non lo sono, nel senso che c'è chi fa Zazen, semplicemente si siede davanti al muro e medita, c'è chi invece passa la vita in un monastero a meditare. Ognuno sceglie la propria strada, non c'è una strada decisa. Le persone hanno, ormai non tutti i gusti sono alla menta, quindi io sono stato in un monastero Zen, sono stato anche in un monastero Kaju e in società teosofica integriamo tutti gli insegnamenti. Però una cosa che è sicura è che il samsara è in nulla differente dal nirvana. Il nirvana è in nulla differente dal samsara. I confini del nirvana sono i confini del samsara. Tra questi due non c'è alcuna differenza. È chiaro che finché noi vediamo la differenza tra samsara e nirvana nel nostro stato normale di vita, esiste una differenza. Ma dal momento in cui noi l'abbiamo raggiunto in nirvana non esiste più una differenza tra samsara e nirvana. I testi di molte linee spirituali ci dicono che esiste Shambhala e la gerarchia nascosta. Ogni pianeta del sistema solare ha un proprio stato maggiore, costituito da ministri ufficiali e ufficiali del logo solari, i quali hanno il compito di portare a compimento il piano divino. Mi ricordo che a un certo momento eravamo a Samirin in Scozia e si parlava di questa iniziazione del Buddha Amitaba e il Buddha Amitaba, questa iniziazione, dava accesso diretto al Devachan e l'abate ci spiegava che il Devachan è il corpo di Buddha Amitaba, nel senso che quello che noi sperimentiamo dopo la morte, quando non abbiamo più il corpo fisico, quando il nostro corpo astrale si è disgregato e ci ritroviamo in un piano mentale superiore, abdevachanico appunto, è generato dalla coscienza del Buddha Amitaba per i buddhisti. Per noi teosofi si chiama piano devachanico, è costituito da materia del piano mentale superiore e ci va bene così. Questa gerarchia costituisce appunto la gerarchia nascosta, un governo interno di ogni pianeta. Anche il nostro mondo si trova quindi sotto la guida di un governo spirituale di questo tipo, che procedendo dai piani superiori risulta invisibile a livello fisico, influenzando tuttavia in modo diretto proprio quel livello. Una poderosa gerarchia nelle cui mani si trova il governo interno del mondo e l'intera evoluzione, l'amministrazione delle leggi della natura e la direzione dei temi del mondo. I membri di diretta gerarchia sono i guardiani della nostra umanità, ognuno secondo il proprio livello della gerarchia svolge molti compiti, compiendoli in perfetta armonia con tutti gli altri. A volte io mi sono posto la domanda sulla liberazione, perché se uno si pone come scopo la liberazione dall'obbligo di reincarnarsi e il momento che è libero cosa succede? È un po' questo il fatto, se siamo liberi non dobbiamo più reincarnarci, ma la cosa finisce lì, non c'è più niente da fare, toppa liberi tutti, andiamo tutti a nanna. No, la questione è proprio questa gerarchia che non è materiale, ma che ha altri compiti riservati per noi, il momento che avremo, che saremo liberati dall'obbligo della reincarnazione. La loro più grande finalità consiste nel redimere l'umanità dall'ignoranza, l'ignoranza della propria natura divina, l'ignoranza dal fatto di sentirsi dentro questo ego, di subire le leggi dell'attrazione e della repulsione, portandola alla saggezza, alla luce e all'immortalità. A volte sono chiamati guardiani del mondo, perché ad ognuno di loro è affidato e assegnato una diversa area di questo. Questi grandi esseri appartengono al quinto regno della natura, o regno spirituale, e costituiscono il centro della cosiddetta grande fratellanza bianca del pianeta, la cui missione chiara e definita è l'accelerazione del processo evolutivo del nostro pianeta Terra. Ne fa parte preponderante il logos planetario della nostra Terra, detto Sanat Kumara, l'anziano dei giorni, o signore del mondo, il quale venne sul nostro pianeta in tempi remotissimi, in forma eterica, ed allora è rimasto sempre con noi. Per l'estrema purezza della sua indole non poteva adottare un corpo fisico come il nostro e quindi ha sempre agito e agisce tuttora dal suo corpo eterico. È un riflesso diretto della magnientità che vive attraverso tutte le evoluzioni di questo pianeta e vitalizza ogni cosa. Egli mantiene tutto entro la propria aurea. In lui viviamo, ci muoviamo ed abbiamo il nostro essere e nessuno può trascendere il raggio della sua aura. Visto che la sua poderosa aurea interpreta e circonda, interpenetra e circonda tutti i sette piani del nostro globo, egli è cosciente di tutto ciò che accade e non c'è azione che gli sfuga. Egli conserva nella sua mente l'intero piano dell'evoluzione, del quale nulla si conosce. Egli è la forza che stimola e spinge tutta la macchina del mondo. Il suo lavoro si trova connesso probabilmente con l'umanità in massa, piuttosto che con singoli individui. Egli è la personificazione della volontà divina in questo pianeta e quando nelle vite degli uomini si manifestano forza, valore, decisionalità, perseveranza e altre caratteristiche simili, sono in effetti da riferire a lui. Quindi quando parliamo di Dio, nostro padre celestiale, è a lui che ci stiamo riferendo. Questo grande essere discese sulla terra insieme ad altri grandi entità, ai tempi della razza lemuriana, circa 18,5 milioni di anni fa, formando la gerarchia nascosta del pianeta. Egli stabilì la propria dimora in un certo luogo nel deserto del Gobi, dove ancora si trova, che a quel tempo non era un deserto come oggi, bensì un meraviglioso giardino verde fiorito. Questo centro poterosamente magnetico è conosciuto sotto diversi nomi, tra i quali più familiari e certamente Shambhala, la dimora degli dèi. A Shambhala abitano quindi i Kumara, questi esseri di altissima evoluzione, ma possono anche risiedervi alcuni maestri di alto livello di questo pianeta ed altre tante entità extraplanetarie. Scusate, puoi aprire il video? Perché così sei piccolo. Io sono piccolo. Puoi aprirlo? Eh, deve Maurizio dare? Cioè? Puoi cliccare il pallino verde. Così? No, no, la vista relatore. La vista relatore? Eccolo, no, blu, quello blu, quello blu. Eccolo. O la torre. Opa, ok. Ok, generalmente veniva fatto di rama, va bene. A Shambhala abitano quindi i Kumara, questi esseri di altissima evoluzione, ma possono anche risiedervi alcuni maestri di alto livello di questo pianeta e altre tante entità extraplanetarie. Shambhala è impenetrabile, nessuno può accedervi né fisicamente né in astrale, né in qualunque altro mondo. È come una forza di luce vivente ricettacolo dell'energia più elevata. L'energia in sintesi è rappresentata dalla ghiandola pineale del pianeta. Scusate, altrimenti non si può pubblicare. Puoi specialmente togliere gli altri per la traga così? No, 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 non puoi. No, non puoi. Ok, grazie. Grazie, Fabrizio, grazie. Grazie. Lì sono contenuti i semi del futuro e il vero e proprio proposito o piano divino. Quindi non disperate e superate l'illusione del samsara. E poi mi sono detto, beh, adesso ci dobbiamo mettere qualcosina di un po' strano all'interno di questa relazione. Ebbene, io da ragazzo ascoltavo questo gruppo musicale che faceva del rap e si chiamava Beastie Boys e a un certo momento uno di questi è diventato discepolo buddista e ha fatto un rap che si chiama Bodhisattva Vau, il voto di Bodhisattva. E siccome anch'io ho fatto questo voto, a un certo momento mi sono lasciato trascinare dall'entusiasmo a Milano col Dalai Lama, ho fatto voto di Bodhisattva. Non so se ho fatto bene, francamente, perché me ne andrei volentieri su altri piani alla fine di questa triste esistenza. Però, chi può dirlo? Magari riuscirò a scappare ancora l'ultimo momento, non si sa mai. Comunque. E questa canzone recita. Mentre sviluppo la mente del risveglio, lodo i Buddha che brillano. Mi inchino davanti a te, mentre percorro il mio cammino. Per unirmi ai vostri ranghi, faccio il mio compito a tempo pieno. Per il bene di tutti gli esseri, cerco la mente illuminata che suscita rispetto. Rispetto a Shantideva e a tutti gli altri. Ti hanno spiegato il Dharma per sorelle e fratelli. Ringrazio questo mondo come luogo di apprendimento. E per questo corpo umano, che so di aver guadagnato, è il mio profondo ringraziamento a tutti gli esseri senzietti. Perché senza di loro non ci sarebbe posto per imparare ciò che vedo. Non c'è niente qui che non sia stato detto prima, ma l'ho scritto ora, così che io sia sicuro e consolidi le mie opinioni. E sarei felice se potessi aiutare anche qualcun altro. Se gli altri mi mancano di rispetto, mi prendono in giro, mi fermo e penso prima di reagire. Comprendo che stanno attraversando stadi insicuri. Colgo l'occasione per avere pazienza. La vedo come un'occasione per aiutare un'altra persona. Stroncando sul nascere la negatività prima che possa peggiorare. Una possibilità per me di essere forte e sicuro. Penso ai Buddha che sono venuti prima. Mentre lodo rispetto il bene che hanno fatto, conoscere l'amore può vincere l'odio in ogni situazione. Abbiamo bisogno di altre persone per creare le circostanze per l'apprendimento che erano qui per neutralizzare situazioni che suscitano le nostre più profonde paure. Così possiamo lavorare per liberarle finché non saranno scagionate. È la sola cosa che ha senso. Per ringraziare i nostri nemici nonostante il loro intento, il percorso del Bodhisattva è potenza e forza. Una forza dall'interno per perdurare nella pratica. Vedere gli altri è importante quanto me stesso. Mi sforzo per una felicità di benessere mentale. Con l'interconnessione che condividiamo come una cosa sola. Ogni azione che facciamo colpisce tutti. Nel decidere cosa una situazione chiama. C'è un sentiero per il bene di tutti. Cerco di comprendere ogni mia azione per il bene più alto, con il desiderio altruistico di raggiungere la buddhità. Prometto qui davanti a tutti quelli che ascoltano di cercare di compiere ogni mia azione per il bene di tutti gli esseri, per il resto della mia vita e anche oltre. Giuro di fare del mio meglio, di non fare del male e nei momenti di dubbio posso pensare al Dharma e gli illuminati che hanno superato il Samsara. Questa conferenza è dedicata a Adam Yauk, che è il cantante che è morto qualche anno fa dei Beastie Boys. Adam Yauk del gruppo dei Beastie Boys. Il nome del gruppo è un acronimo di Boys Entering Anarchistic State Towards Inner Excellence, che significa ragazzi che entrano in stati anarchici verso l'eccellenza interiore. Il gruppo ha riconosciuto che l'acronimo era un ripensamento concepito dopo la scelta del nome. Quindi io mi immagino questi ragazzi che hanno un successo planetario cantando delle canzoni assurde, a un certo momento vengono in contatto con il buddismo e il loro leader fa questo voto di Bodhisattva e poi organizza il secondo concerto più grande dopo quello di Bob Geldof dedicato all'Africa, organizza un concerto per la pace con il Dalai Lama. Quindi vedete che c'è proprio un'onda positiva anche nella musica, nell'arte, che pervade la vita di milioni di persone che ascoltano delle canzonette, perché questo è un rap essenzialmente, è una canzonetta che si poteva a sentire alla radio. E questa, questa, quest'onda che è l'arte ha colpito anche noi in un certo momento della nostra esistenza quando abbiamo comprato la casa di Luigi Periche. Luigi Periche era questo artista che viveva nella casa di fianco all'albergo Ascona che si è ritirato dal mondo nel 65 e io immagino che abbia preso rifugio anche lui. Prendere rifugio nel buddismo significa prendere rifugio nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha. Lui era solo con sua moglie in questa casa e si dedicava allo studio della teosofia. Abbiamo trovato i libri di Steiner, tantissimi, i libri di Alice Bailey, abbiamo trovato libri di studio di religioni comparate, di buddismo, induismo, era un fervente seguace di Aurobindo, ci sono le lettere di Barbiede de Saint-Hilaire che era il biografo della Mer e tra l'altro Eugenia Cosentina che è teosofa del gruppo mi sembra di Cavallirio, di Villaggio Verde, lei veniva qui regolarmente ad Ascona ed è grazie a Luigi Periche che l'ha mandata a Pondicerri, a Pondicerri in India e lei poi ha tradotto tutto Aurobindo in italiano. Era all'epoca studiava pedagogia e stava cercando una nuova via per l'educazione. Quindi noi siamo stati praticamente aspirati dentro l'aura di Luigi Periche, io me lo ricordo da bambino quando andavo a trovarlo e lui mi ha detto questa cosa qua, avrò avuto 13-14 anni, mi dice lascia perdere gli studi classici, studia l'esoterismo. Io non sapevo nemmeno cosa fosse l'esoterismo, non avevo la più pallida idea di cosa, però poi così è stato, così è successo. Poi lui è rimasta, la casa è rimasta 15 anni senza nessuno e adesso siamo di fronte a questa grande scoperta. Vi proietto un breve video dell'ultima avventura che abbiamo avuto a Roma. Gribouillage scarabocchio. Con questo titolo la mostra non intende tanto dare una definizione di cosa sia uno scarabocchio, né raccontare una storia cronologica lineare dello scarabocchio nell'arte, ma piuttosto mettere in luce come una pratica del disegno scarabocchiato abbia accompagnato la creazione artistica dal rinascimento al giorno di oggi. Quando si pensa allo scarabocchio si pensa spesso ai disegni dei bambini. Questi disegni hanno affascinato gli artisti. Lo si sa che gli artisti delle avanguardie, per esempio delle avanguardie russe, hanno collezionato questi disegni e li hanno esposti a fianco alle loro opere, proprio perché questi disegni mostravano una freschezza, una necessità di disegnare, proprio una spontaneità che era ricercata dalle avanguardie. In questa sala che parla dell'infanzia dell'arte, cioè proprio come il disegno, gli scarabocchi dei bambini siano le premesse all'arte, abbiamo riunito tutta una serie di ritratti che insieme configurano 500 anni di storia, perché iniziamo dal ritratto di Giovanni Francesco Carotto e finiamo con questo dipinto di Asker Yorn, un artista danese, il quale ha acquistato a questo mercato delle pulci un disegno di una bambina con una corda per saltare e l'ha graffittato sopra in modo estremamente infantile. Questi dipinti che mettono in scena il disegno infantile proprio fanno vedere come gli artisti hanno ribaltato la percezione dello scarabocchio e ne hanno fatto il cuore della loro creazione. Nel Rinascimento questa pratica lavora nei margini della creazione artistica, rimane all'ombra del lavoro della bottega, mentre progressivamente in età contemporanea la pratica il disegno scarabocchiato conquisterà il centro dell'opera diventerà idioma dell'arte per sé e questo la mostra lo mette in luce tramite un dialogo tra opere rinascimentali e opere contemporanee con lavori di artisti quale Leonardo da Vinci, Michelangelo, Tiziano o Bellini per la parte rinascimentale e Saito Ombli, Basquiat o Luigi Pericle per la parte contemporanea. Luigi Pericle nel 1965 decide di abbandonare il sistema dell'arte dopo i successi londinesi, dopo aver esposto all'epoca con Picasso, Duby Fessen, Francis, Frank Stella ed essere apprezzato dai grandi nomi del sistema alla Arthur Toussaint's Gallery di Londra e nei musei inglesi. Ma Luigi Pericle era essenzialmente un mistico che decide di abbandonare la fama e la gloria e ritirarsi nella sua villa di Ascona su Monteverità, tratto da questo magnete spirituale che è Monteverità. Luigi Pericle studierà da autodidatta il cinese, il giapponese, il greco antico, l'ebraico, l'arabo, la storia dell'arte nella sua accezione spirituale. Luigi Pericle è un uomo eclettico, studia omeopatia, agopuntura, lo zen, le discipline orientali dipinge, dipinge moltissimo e scrive moltissimo. Ed eccoci qui oggi a Roma a Villa Medici esponendo Luigi Pericle con i grandi della storia dell'arte. Per la Villa Medici è molto importante per noi di essere oggi al cuore dei nostri missioni più importanti e ricevere oggi l'archività di Luigi Pericle in questa scuola di Scarabocchio che mette in luce tutta una parte di storia dell'arte che non aveva mai stato visto qui si guardate. Per noi è davvero una delle missioni di presentazione del patrimonio, di valorizzazione del patrimonio franco-italiano, che è esattamente il cuore della nostra missione in questa villa romana che è uno dei più becchi stessi pubblici e culturali francesi. Io dopo questo mi sento in pace e quindi vi saluto e vi auguro buona concitazione.